eccoci ragazzi tornati con un nuovo e solito video oggi andiamo ad aprire i nuovi magichi cucinelle andiamo a vedere www.magichi.com abilità da bambini a 0 3 anni quindi alessandro non può avere i magichi per forza la bacchetta magica non la so ancora usare ma non l'avevo avuto comunque sono importati dal d'agostini e vabbè l'avevi già letto consigliato a un pubblico da sì l'ho già letto consigliato a un pubblico dei quattro anni in su e vabbè se 0 3 anni ovvio prezzo ragazzi insegniamo di affermare sezione il prezzo è di 2,99 vi ricordo che poi credo da genere toglieranno i centesimi quindi sarà un prezzo tendo 3 euro e poi aspettate qua ci dice che in america costano 2 dollari e 50 costa meno beh sì ma sempre di più qua ok 2 dollari e 50 quant'è? non so no c'è l'apertura facilitata no così qua insegnare a una persona come aprire i bustini ok qui abbiamo la solita oh abbiamo trovato Audrey sì era una di cose che mi piaceva vabbè io volevo dirlo io comunque va bene vabbè insomma abbiamo trovato questa che adesso vi faccio vedere allora Audrey è una che cambia il colore al buio perfetto l'altra volta abbiamo trovato Desiree mi piacerebbe trovare Judy che dorme però va bene mi piaceva anche Audrey che poi tra l'altro mi sa che ho trovato le stesse che ha trovato Ricciolotto a Notto e anche farlo apposta allora toglierò la descrizione che ti piace tanto ecco qui vediamo questa non so lucciola come chiamarla è una coccinella coccinella sì scusa hai ragione sul petto porta dei cerchiolini rosa cerchiolini poi abbiamo le scarpine di un colore celeste barra verde verde petrolio eh allora è andata male abbiamo le ali azzurre con ancora i certi puntini rossi si si vede che c'ha qualche malattia non lo so attenzione a non prenderla aiuto questa ci dice che brilla il buio quindi in teoria dovrebbero brillare la testa e le ali occhi viola testa e capelli rossi se sono capelli e i due corna con le stelline sopra per dire sono doppio cornuta va bene andiamo a leggere la descrizione di questa Audrey aspetta Audrey 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 si senti qua è ruvido è ruvido si vai leggi allora è la coccinella dei fiori Audrey ama tutti i fiori Audrey no Audrey tu se lo fa apposta Audrey c'è per da me li raccoglie per farmi grandi bouquet ma li usa anche per comporre canzoni ma va non so io posso anche comporre le canzoni non lo so Mozart Beethoven non lo so Rex non lo so e Beethoven un cane Rex uguale comporre chirlande e coroncine da regalare alla regina d'Inghilterra è vero le sue amiche ma quale amiche non sapevo che come amiche c'erano la regina d'Inghilterra cara Audrey hai un'amica di 90 anni e spero per te che voglia il creatore al più tardi possibile nel suo giardinetto coltiva fiori di zucca è vero cosa? fiori di ogni forma e colore beh quindi la zucca è compresa va bene e sono tutti puzzolenti no è vero e qua dice sono tutti profumatissimi la sua amica del cuore è Liv è la cucinella della tristezza è vero dai e della dolcezza cucinella della dolcezza senza tristezza lui come sapete deve sempre storpiare le descrizioni va bene ragazzi è una che brilla al buio c'è scritto qua va bene bella il soggiorno quindi eh non possiamo farvelo vedere esatto niente va bene dai su la sua migliore amica è questa Liv è una che cambia colore con il caldo e il freddo ok ragazzi bene niente io spero che questo video vi sia piaciuto che vorrete altre mie storpiature e bisogna comprare le bustine per farlo e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao